La sfida dell'Adriatico mette di fronte due squadre che vorranno in tutti i modi riscattare le prestazioni non eccellenti delle ultime due giornate. Siamo alla ventisesima, la settima del girone di ritorno con gli abruzzesi comunque incollati al terzo posto in classifica e i Lucani oscillanti tra la zona playoff e quella playout. La gara inizia su ritmi non elevatissimi, il primo tiro in porta arriva all'undicesimo con Caturano che la stoppa bene in aria ma e il suo sinistro poco angolato non impensierisce Pellizzari. Il Pescara passa in vantaggio 5 minuti dopo con Vergani che sfrutta alla perfezione lo splendido assist di Rafia e sigla la sua quinta rete personale. Sempre il numero 9 bianco-azzurro al ventitresimo spaventa Gasparini con una rasoiata dalla destra che però finisce sul fondo. 120 secondi dopo è di nuovo Caturano che di testa costringe il numero 1 abruzzese alla deviazione. Al trentaduesimo ancora Vergani liberato sempre da Rafia tra i migliori in campo di mister Colombo centra in pieno la traversa. La rete del raddoppio arriva due minuti dopo da una palla persa sulla tre quarti l'ennesima dove bravissimo Merola liberarsi il destro e abbattere per la seconda volta Gasparini. È un assedio dei padroni di casa. Al trentanovesimo è di nuovo la traversa di Renault a Cragia che ci aveva provato dal limite. La ripresa inizia così come si erano conclusi i primi 45 minuti e Gibawa questa volta a costruire l'assist per delle monache che ha lo spazio e il tempo per calibrare un destro a giro perfetto che termina alle spalle dell'estremo difensore rosso-blu. Al cinquantatresimo gli ospiti restano in dieci per il secondo cartellino giallo a Rocchi. Una timida reazione del potenza sia al minuto 57 con Steffek direttamente da punizione costringe e pellizzaria la deviazione in corner e due minuti dopo con Caturano che lanciato da Di Grazia trova prima una respinta e poi calibra male la mira. Al 65esimo delle monache va vicinissimo la doppietta personale ma a siglare il poker al potenza al 79esimo è l'ex Lescano che in aria ha tutto il tempo e lo spazio di trovare la coordinazione giusta per la rete del 4 a 0. Il pokerissimo invece lo mette a segno Merola che sigla una importante doppietta al suo esordio all'Adriatico. Riscatto raggiunto e meritato per i ragazzi di Mister Colombo che tornano a vincere e a convincere grazie anche allo spessore dei nuovi innesti in casa a Bianco Azzurra. Altra pesante sconfitta invece per il potenza di Raffaele che domenica al Viviani nel derby tutto lucano contro il Picerno avrà un solo risultato utile da conquistare per evitare che la crisi diventi irreversibile.